I cimiteri di Farello e Monumentale a Gela sono in condizioni molto precarie, il degrado regna sovrano. Nel nostro cimitero sono sepolti molti cittadini le cui tombe sono abbandonate a se stesse. La denuncia è del consigliere comunale di un'altra Gela, Salvatore Sammito. Dal personale in servizio, dice Sammito, ho saputo che c'è solo un operatore per un'ora al giorno. Non ci sono parole per descrivere lo stato di degrado e di abbandono in cui versano i nostri cimiteri. Domenica andai al cimitero di Farello a trovare mio padre. Ho riscontrato sporcizia, fiori secchi, vasi mancanti in molte lapidi. Mio padre stesso mi ha rimproverato da defunto dicendomi che il consigliere comunale non ti fai valere, non dici niente riguardo alla sporcizia che regna qua dentro. Io invito l'amministrazione, onde evitare palliativi come al solito, tamponamenti, di programmare delle pulizie ordinarie. Non è ammissibile che una sola persona per un'ora al giorno faccia le pulizie all'interno del cimitero, considerando la grandezza che c'è. Già che uno soffre di suo perché deve andare a trovare un proprio carro. Se poi dobbiamo aggiungere che per renderlo visibile agli altri e a se stessi, per un decoro proprio, si devono munire discopa, palette e bottigliette con l'acqua, questo è veramente inconcepibile. Non dovrebbe essere considerato che si tratta di un luogo sacro pulito 365 giorni l'anno? Effettivamente si, lei ha ragione, dovrebbe essere, ma allo stato dei fatti non lo è. Non lo è perché l'amministrazione non ha una programmazione adeguata alla pulizia dei cimiteri. Io faccio un invito, non da consigliere, bensì da cittadino, visto che il sindaco vanta che parla con la città e non con la politica, da cittadino gli dico, provveda immediatamente e non in prossimità del giorno dei difunti, ma 365 giorni l'anno, come lei ben diceva, a predisporre un calendario ordinario per la pulizia e la manutenzione e la sorveglianza all'interno dei cimiteri.